salve ragazzi benvenuti al canale oggi raga di nuovo qui sulla spredita mappa italia qui su farmix simulatore 19 oggi raga come avete ben letto dal titolo per l'ultimo episodio per il finale di stagione e ovviamente per il finale di stagione non poteva non mancare per salutarlo il nostro buon collega steno 84 che salutiamo e diamo il bentornato buongiorno buongiorno simulatore buongiorno a tutti ragazzi e grazie per l'ultimo l'ultima apparizione sulla mappa figurati ma figurati con un po di nostalgia di nostalgia effettivamente sì ecco anche se adesso a pensare a quello che ti aspetta di lavoro secondo me nostalgia non ne avrai più tanta perché raga allora essendo un finale di stagione raga ho pensato a una roba un po particolare nel senso che ci andiamo a vendere tutto quello che possiamo andare a vendere tra colture mezzi robe del del vigneto animali ad esempio anche andare a recuperare tutto quello che possiamo recuperare in termini di denaro e poi andare a fare una mini serie che in un'altra mappa una mini serie fino al 22 novembre circa andremo a fare un'altra mini serie così finalmente concludiamo questo questa prima stagione della mappa italia noi stiamo già insomma facendo una sorta di lavoro guardate qua che roba che sono andato a combinare perché purtroppo la colpa è sempre la mia pian piano vendi vendi tutto noi raga intanto andiamo a vendere questa roba qua ma nel frattempo che carico e quindi porto avanti la lavorazione vi ricordo come sempre che in descrizione potete trovare tutti i miei link utili compreso ovviamente il link per preordinare farming simulator 22 il link per l'acquisto del season pass oltretutto trovate anche il link del buon collega che mi raccomando passate anche da lui a iscrivervi e mi raccomando spolliciate lasciate figurati tanti tanti bei like per questo finale di stagione qui sulla mappa italia detto sinceramente con un po di nostalgia ma questo è raga per forza dobbiamo concludere perché oramai ci stiamo avvicinando al 22 novembre e io vendo tutto dove c'è il prezzo migliore sì e beh certamente certamente dove c'è il prezzo migliore tu vai e vendi ok vendiamo piano piano vediamo quanti soldini riusciamo a fare raga ovviamente ok perfetto da ogni carico facciamo la bellezza di 258 mila euro è solo il cassone e il camion vero sì però se vuoi ti posso noleggiare qualcosa se ti serve qualcosa di un po più capiente sì mi noleggio un baia ti noleggi il baia va bene però dobbiamo controllare dove sta il punto di spawn degli attrezzi perché ho paura che sta quando che non ci siano posti incasinati da cui vendere questo non te lo so dire speriamo di no ok raga secondo scarico quindi praticamente altri 260 mila euro dovrei comunque ancora fare un altro scarico penso e nel frattempo poi depositi gragnano beh vendi pure vendi pure vendi pure vendi pure orzo e qua scarichiamo invece colza e orzo ok e vendiamo anche sta roba qua raga orza e colzo e colze facciamo altri 33 mila euro perfetto questo lo mandiamo verso il silo venderemo sicuramente poi anche i mezzi e gli attrezzi tranne quelli praticamente che avevamo presi tramite le convenzioni comunali quelli saranno tipo la pala gommata la pala caricatrice mi pare voglio dire la pinza telescopica e tutta questa bella roba qua vabbè quelle cose ovviamente ragazzi le terremo le terremo qua e via e anche le proprietà comunque terreni e proprietà non li venderemo nel frattempo questo qua lo mandiamo al bga così andiamo a raccogliere praticamente tutti i prodotti restanti per quanto riguarda la vineria poi almeno lì quella sezione lì l'abbiamo conclusa devo andare praticamente partiamo con la vendita dei maiali i maiali ovviamente non li vado a vendere con il carro perché sennò ci mettiamo due secoli e mezzo ho praticamente speso 100 mila 10 mila euro precisi precisi di tariffa ok 170 mila euro non so ma li stai controllando tu anche sì sì li sto controllando anche io perché sto prendendo ho preso appena la pala gommata così vendiamo le patate 28 mila euro dalle patate perfetto te lo mando verso la farm così almeno se bisogna caricare altro carichiamo vai verso la farm qua nel frattempo raga è arrivato il new holland quindi dato che siamo qua all'interno della nostra bella vineria andiamo a recuperare quelli che sono i pallet di vino e poco altro non credo in realtà abbiamo altro da poter recuperare ah e sì e le cose di uva e andiamo a vendere tutto quanto una volta per tutte ci togliamo il pensiero e buonanotte ok raga allora ho caricato ho fatto un bel carico sia di uva che di vino che di quei due pallet che avevo incontrato per strada ai depositi gragnano eccolo qua boh allora mi rimangono 15.000 litri di cippato all'interno della produzione di pallet e invece alla segheria 25.000 anzi volendo già che ci siamo scusate abbiamo una capacità di 100.000 di 100.000 litri all'interno della pala della pinza telescopica vado a utilizzare la pinza per caricarmi il cippato e buonanotte prendiamoci tutto il cippato all'interno di tutte le strutture e andiamo a vendercelo per praticamente vediamo un attimino lo vendiamo per 168 euro alla segheria vabbè pochissimo praticamente nulla digestato però c'è un una gran bella richiesta è 360 326 all'agrotugal digestato buon credo che questi comunque siano arrivati all'ifo quindi io penso che vabbè scarico io perché qua ho paura che facciamo veramente dei grossi disastri ok scarichiamoci i semi di soia che dovrebbero valere comunque abbastanza certo che adesso qua per scaricare ci metteremo una vita è quello il punto ok boh scaricato tutto raga un po' a tocchetti ma fortunatamente sono riuscito a scaricare perfetto questo lo rimandiamo adesso verso il silo così se c'è qualcos'altro da poter recuperare lo recuperiamo e facciamo scaricare il po' di mais uh lo zaccaria la cosa bella è che non ha le collision ma guarda che meraviglia lo zaccaria scarica che è una bellezza non ci credo ok dal praticamente dal mais abbiamo fatto 41 mila euro qui vendita foraggi sta vendendo ah qua sta andando però tutto strano fermi 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 che questo dobbiamo assolutamente scaricarlo questo qua il concipato dove deve andare alla segheria alla segheria è già carico così si già carico così segheria mappa si chiama ok è altro scarico dai stiamo facendo un sacco di soldoni siamo già praticamente a un milione e 500 mila euro andiamo a fargli scaricare il restante vino restante cose che devono scaricare perfetto e ci siamo fatti altri 33 mila euro che comunque non è male non sono troppi soldi però va bene credo che non abbiamo altro a livello di balle balloni pallet cose del genere da scaricare da quello che ricordo praticamente al digestato al voglio dire al biogas abbiamo del digestato da dover vendere quindi e andiamo con la botte a scaric anzi a caricarci digestato e andarlo a portare al agrotuga mi pare che si chiami che però mi sa che non abbiamo il punto citiamolo ah è questo qua io pensavo che questo si chiamasse in un'altra maniera ah va bene allora il nostro classico punto vendita del digestato perfetto allora scarichiamo il digestato perfetto nel frattempo che qui scarica raga io direi che possiamo partire con la vendita dei restanti animali ad esempio caspita i cavalli quanto valgono 40 mila euro per due cavalli perfetto ci facciamo altri 279 mila euro praticamente bene conferme sono altri 8500 euro più o meno e perfetto 85 mila euro ci siamo fatti bene siamo arrivati praticamente a due milioni di euro abbiamo delle culture sì intanto 4 mila euro mi sono fatto sì va bene che possiamo comunque vendere ho visto comunque ho notato che con le galline ci fregano malamente e ne guadagniamo solamente 5000 perché 7500 sono solo di tariffa del trasporto per la vendita niente dai ci facciamo quest'ultima vendita raga queste 15 queste 15 vacche ci vendiamo a praticamente 20 mila euro alla fine la cosa che abbiamo venduto l'animale che abbiamo come sempre venduto meglio è stato e sono stati cavalli intanto qua che c'è un po di vendite da fare ancora vado a vendere abbiamo finito con la vendita della paglia sì mi sembra sì ok perfetto perché mi vendo allora ancora sto po di paglia che abbiamo ok 16 mila euro da 100 mila litri di di cosa venduta o non siamo riusciti ad arrivare ancora a due milioni di euro è comunque speriamo che con questa con questa paglia riusciamo perfetto intanto tu vai e io mi scarico ancora questi 54 mila litri di paglia e direi che con la paglia abbiamo finito adesso poi andiamo a vedere cosa solamente ci rimane a parte vabbè il digestato che direi che possiamo anche già magari andare a vendere a bravo collega sta già andando lei gentilissimo grazie no no lì l'ho solo spostato grazie ok grazie grazie lo stesso spostato perché non passavi tutto lì va bene va bene vado allora a caricarmio perfetto è altro scarico di digestato siamo a posto io direi che a questo punto raga possiamo iniziare pian piano a vendere perlomeno tutti gli attrezzi che non ci sono più necessari così almeno iniziamo a togliere un po di un po di roba ad esempio iniziamo a vendere la trebbia che oramai non ci serve più la caffini che riparo e vendo perché oramai non mi serve più ok credo di aver venduto tutto raga a parte come detto gli attrezzi e i mezzi comunali a mi serve da vendere anche questo qualche tanto non serve più e ovviamente i mezzi che ci servono attualmente e la macchinina che poi facciamo l'altro finale direi che abbiamo venduto tutto perfetto e siamo arrivati alla bellezza di 250 mila 2 milioni e 460 mila euro questo nel frattempo raga è arrivato alla segheria quindi possiamo vendere praticamente quello che è il nostro il nostro cippato per l'appunto quindi vendiamo e così almeno questo qua poi mi pare che l'avevamo comprato noi questo qua e sono quasi sicuro che abbiamo comprato noi è quindi penso che mi andrò a vendere poi anche questo qua ok altri 11 mila euro ce li siamo fatti per il momento lo vado a portare verso il silo perché non so se ancora mi servirà perfetto all'interno del silo come siamo messi oramai abbiamo praticamente finito trifoglio insilato dobbiamo caricare poi carote farro fieno di erba medica fresh maiz abbiamo praticamente finito bene 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 perfetto e vai tu cos'è che stai caricando in questo momento trifoglio trifoglio fresco si trifoglio fresco ok va bene dai non rimane molta roba penso che la cosa più importante che adesso dobbiamo andare a vendere sono le carote che hanno veramente bisogno di un grande aiuto perché abbiamo 300 mila litri di carote allora via di carichi di carote raga pieni pieni di carote credo che le carote dobbiamo andarle a vendere al biogas come al solito 450 biogas perfetto allora portiamolo verso biogas rimorchio che tanto va benissimo eh perfetti belli carichi portiamo il nostro amichetto lì a scaricare questo che cos'è fieno di trifoglio ok bello carico mamma mia cos'è sto casino qua che succede eh mamma mia quanti mezzi porca miseria non riesco a entrare o non riesco ok dai camazza la mano vado a recuperare ancora un po' di carote che è la cosa più importante in questo momento da scaricare e credo anche una delle ultime colture che dobbiamo andare a vendere prima di poter veramente concludere ufficialmente la serie raga poi se dovesse esserci qualcosa ad esempio tipo il digestato che non riuscirò per forza di cose a vendere vado a vendermi tutto off camera e poi il riscontro del saldo totale ve lo faccio vedere alla fine del video vi lascerò uno screen con appunto il saldo totale oltre alle vendite che andrò a fare off camera ovviamente ok anche qua abbiamo venduto qua comunque andremo a scaricare parecchia roba eh mi sa parecchia roba andremo a scaricare porca miseria arriva il treno 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 via 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 occio mamma mia mamma mia io non lo so ti giuro non lo so come cosa è successo tanto non è accettato il fieno del trifoglio ah non è accettato il fieno del trifoglio? no no ah che strano mi ricordavo invece che si potesse scaricare il fieno vabbè niente se lo vengo a vendita a foraggi si a vendita a foraggi esatto tanto va bene lo stesso senza nessun problema anzi lo vado a vendere un attimino io dato che la vendita a foraggi è qua dietro anzi aspetta aspetta ecco bravo grazie vengo indietro va vengo indietro te lo avevo spostato per quello così almeno lo vendiamo subito si perfetto qua il fieno lo accetta bene scarica il fieno e nel frattempo io mi vado a vendere ancora un po' di digestato ok e altri 13 mila euro dal fieno ce lo siamo fatti cos'è che praticamente ancora oltre alle carote abbiamo trifoglio insilato ancora un po' di fieno di trifoglio e il digestato ovviamente che dobbiamo scaricare per quanto riguarda i restanti altre cose nient'altro in realtà eh in realtà nient'altro anche perché però il digestato non finisce qua perché adesso vendendo tutta sta roba che stiamo vendendo al biogas esatto e ci sarà altro digestato e quindi per forza devo andare a finire di vendere off camera non posso fare altrimenti si oramai comunque come vedete raga non c'è più tanto altro il mais silage e il fresh silage dove posso andarli a vendere tutti al biogas si ok allora vado a vendermi sta roba qua va perfetto praticamente quasi un carico pieno ok vai questo ce l'hai tu perfetto allora vado al prossimo che è questo qua e con questo invece ci carichiamo le carote beh carichiamo il fresh maize va così almeno ce lo leviamo dai mezzi ai piedi ok perfetto così almeno questi possono ripartire questi intanto si stanno fermando tutti bene dai stiamo procedendo davvero bene oramai mancano solo più 5 minuti raga credo che avremo il tempo giusti giusti di andare a terminare tutte le semine e finalmente ufficialmente concludere la semina ah si la semina la serie qua sulla mappa italia questa prima stagione perlomeno poi le restanti stagioni andremo a vedere nella prossima versione di farming ok questo decisamente meglio allora questo lo mandiamo adesso verso biogas rimorchio vai verso il biogas e critica la storia ma però aspetta il fieno di trifoglio io non lo devo scaricare qua quindi posso anche si intanto andare a scaricare io eh perfetto raga e anche il fresh maize l'abbiamo venduto oramai stiamo andando praticamente tutto in discesa raga è tutta una discesa oramai questo mandiamolo al silo praticamente vai al silo immagino che la pala gommata si sia malamente bloccata come al suo solito ok raga direi che questa è l'ultima vendita che facciamo comunque perché oramai è stata tutta una puntata tutto vendite alla fine quindi questa è l'ultima puntata che cioè l'ultima vendita che facciamo e direi che possiamo anche interrompere qui la puntata detto ciò tanto abbiamo già fatto un sacco di vendite un sacco di cose quindi eh un po' di soldoni già ce l'abbiamo ovviamente off camera mi andrò a terminare quelle che sono le ultime vendite ad esempio il digestato vediamo un attimino di mandare magari anche avanti il tempo se riusciamo magari eh sì ma conviene che le vendiamo un attimino le carote prima di concludere la puntata così almeno possiamo poi mandare avanti il tempo e ovviamente mi prende le carote quassù oh bello affare questo qua non vende le carote mo e allora boh sarà buggato vabbè portalo allo scalomerci barbamento e patate non è che varie pieno boh non lo so perché io non ho effettivamente non ho mai scaricato così tante quantità in una sola volta all'interno del biogas quindi potrebbe anche essere che ah magari i vasconi del digestato siano pieni ok dovrebbe rimanere ancora circa uno scarico raga all'interno del silo per quanto riguarda le carote così una volta scaricate lì allo scalomerci possiamo ufficialmente concludere la puntata e ok ma andiamolo allo scalomerci questo qua raga questo invece perfetto vai verso il punto ifo io direi che raga comunque per quest'ultimo episodio per questa per questo finale di stagione eventualmente possiamo anche concluderci qua io terminerò off camera tutte le vendite per capire quanto andremo a fare effettivamente da da tutto quanto detto ciò ovviamente ringrazio il buon collega per esserci stato anche in quest'ultima puntata ma si figura per avermi fatto compagnia in una direi anzi nella serie più di punta che è stata del mio canale quindi ringrazio lui ma ringrazio ovviamente anche voi per tutto il supporto che mi date sempre ovviamente raga vi ricordo come sempre che giù in descrizione potete trovare tutti i miei link utili compreso ovviamente il link per preordinar farming simulator 22 il link per acquisto del season pass non dimenticatevi di passare anche dal collega che trovate il link in descrizione ed iscrivetevi se non l'avete già fatto mi raccomando grazie figurati detto ciò raga io non posso far altro che concludervi ringraziarvi tantissimo e con una piccola racrimuccia salutarvi alla fine di questa scenetta vi faccio vi lascio in sovraimpressione la foto del saldo che abbiamo al termine di tutte le vendite che mi andrò a fare off camera ovviamente raga mando un saluto al collega un saluto a tutti voi grazie di tutto e al prossimo video ciao a tutti ciao 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 ciao